La SIDS è conosciuta anche come morte in culla, una sindrome rara e difficile da diagnosticare. In Italia colpisce circa 300 neonati all'anno, ce lo conferma la dottoressa Letizia Maggi, direttore del reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale San Donato di Arezzo. Risponde alla definizione di Sudden Infant Death Syndrome, significa poi morte improvvisa, inaspettata, nei primi mesi di vita, o così chiamata anche morte in culla. Ha un'incidenza in Italia dello 0,5 per mille, dato forse non molto preciso, proprio per quanto è difficile l'inquadramento della sindrome. Si può definire SIDS quando non si trova una causa, nemmeno nell'esame autoptico, in un bambino deceduto improvvisamente nel sonno. Nessuno lo sa quello che succede, è una condizione che è inaspettata, non c'è una chiara causa riconoscibile in anticipo, altrimenti sarebbe ancora ridotta l'incidenza, ma dall'attuazione di norme di comportamento che vengono suggerite, anzi sollecitate a tutte le famiglie al momento della dimissione, con un opuscolo che viene fornito dalla regione toscana e che indica di mettere i bambini a dormire distesi sulla schiena pancia in su, senza il cuscino, per i primi sei mesi anno di vita, di non usare cuscini, di non dormire nel lettone accanto ai genitori, ma a fianco, di ridurre l'eccesso di calore nell'ambiente in cui dorme il bambino, e altre indicazioni, l'incidenza si è veramente ridotta.